Si è conclusa Ortodonico, frazione di Monte Corice, in Cilento, la quinta edizione di The Wine Jets Festival, che è messa artistica in grado di coniugare musica, jazz e degustazione dei migliori vini cilentani. Il progetto, totalmente finanziato dalla Regione Campania tramite il POC Campania 2014-2020, misura 2.4, è stato realizzato e curato dall'Ufficio Cultura del Comune di Monte Corice, da Annibale Catania, in collaborazione con il Direttore Artistico Giuseppe Reale e l'Associazione Vammaciari. Quest'anno abbiamo dato vita ad una quattro giorni, dal punto di vista musicale veramente importante, nomi di altissimo livello, di livello internazionale. Gli artisti si sono esibiti per tre serie a Monte Corice per poi spostarsi ad Ortodonico. Gli artisti che si sono esibiti spiccano il re dello swing, Emanuele Urso, il sassofonista Stefano Di Battista, con Michi Nicolai, i grandi del jazz italiano e infine Gianluca Guidi con un tributo a Frank Sinatra. Alla musica si sono accompagnate degustazioni gratuite dei vini delle migliori cantine cilentane, grazie alla collaborazione con le sezioni campagne dell'Associazione Italiana Sommelier. Solo con i soldi spesso non è che si riesce a realizzare tutto, ma ci vuole appunto quella spinta che viene dal dentro, quell'emozione che si sta acquistando con questa manifestazione che ogni anno stiamo facendo. Grazie. Grazie.